Tutto forma ed è formato da tutto. Il motto tratto dal pensiero di Giordano Bruno, dalle titoli alla mostra della scultura e del maestro Giovanni Paco, inaugurata in Consiglio regionale dal Presidente Franco Iacop, a stieme alla Presidente della Regione dei Borsaracchiani, presenti gli assessori consiglieri impegnati nei lavori della seconda giornata d'aula delegata all'esame di legge della riforma finanziaria. Una quindicina di selezionate opere dislocate nei spazi espositivi dei passi perduti che si struttano intorno all'emiclio dove si riunisce l'assemblea regionale. Ancora una volta il Consiglio regionale si fa contenitore anche culturale e artistico in particolar modo con l'iniziativa per il cinquantesimo. L'ispirazione universale viene da Dio che dall'argilla ha modellato i primi nudi. Tra le altre cose merita vedere questa mostra perché c'è anche una statua in bronzo che tutto sommato, secondo noi, viene ispirata al Presidente della Terza Commissione di Sietà Rotelli e poi dopo c'è anche una scultura che non me ne voglio amare però ispirata a Bruno Marini.